Ragazzi, allora guardate questa bella femminuccia, tra l'altro molto affettuosa con me, ha quasi un anno. Ebbè è una di quelle femminucce che se voi avete un maschio, la mettete nel giardino, la situazione guardia cambia, perché lei è molto già prestante, nel senso a, oltre a essere così bella, è molto attenta, e assolutamente non indifferente a qualcuno che si dovesse avvicinare di nostro, vicino alla vostra proprietà. Ecco, ve la voglio proporre perché in questo periodo mi stanno appunto contantando persone, chiedendomi cani che siano un po' pronti all'uso, non hanno voglia di crescere dei cuccioli, dei cuccioloni, e di avere già qualcosa che funziona. Lei, abbinata ad un maschio, è senza dubbio un soggetto che potrebbe dare tante soddisfazioni. Bene, se siete interessati, vi potete contattare, tra l'altro è figlia di ottimi guardiani, che sono visibili e sia padre e madre fanno una guardia eccellente, e lei è una femmina dotata di caratteristiche proprio di guardiana naturale. Guardate come ci sono, a presto.